È un grande problema quando un comune viene sciolto perché significa che in quel territorio le amministrazioni sono coinvolte in qualcosa che non funziona, quindi ci vuole massima attenzione e i partiti tutti devono avere grande responsabilità nella formazione delle liste senza avere nessun dubbio perché l'etica è il discorso più importante che la politica deve fare oggi. L'etica è fondamentale per tutti noi, bisogna avere una tensione morale sempre alta.